Questa è la situazione prevista attorno al 4-5 settembre, c'è qualche novità in vista dunque allo scadere della prima decada di settembre con questa saccatura nord-atlantica che penetra sull'Europa, nel cuore dell'Europa, tentando di cambiare il pattern circolatorio, una circolazione ciclonica che spezza in due questo vasto anticiclone che si estende dall'Atlantico verso la Scandinavia e questa saccatura va ad interessare non solo l'Europa occidentale ma anche parte della nostra penisola, in particolare le regioni settentrionali e quelle centrali, almeno per il momento. Poi questa circolazione ciclonica tenderà a ruotare attorno al suo barri di centro, influenzando a più riprese non solo l'Europa centro-occidentale ma anche le nostre regioni. C'è ancora della incertezza circa il movimento e anche la posizione di questo vortice di aria fresca in quota che va a spezzare dunque la monotonia di un agosto molto caldo, è stato molto caldo, l'ultima parte d'estate è stata molto calda insieme ad un mese d'agosto di gran lunga, è molto caldo su diverse regioni italiane ma anche la prima parte del mese di settembre che è iniziata all'insegna di temperature record su diverse località italiane e non solo. C'è, dicevamo prima, c'è ancora molta incertezza, a dire il vero, sulla posizione di questo vortice di aria fresca che tenderà poi ad isolarsi perché la corrente getto tende a tagliare questo cat-off ciclonico sull'Europa occidentale e lo spread è effettivamente ancora abbastanza elevato sull'Europa occidentale, di conseguenza ancora i modelli stanno cercando di chiarire un po' la effettiva collocazione di questa trottola depressionaria che andrà appunto ad influenzare il tempo tra lo scadere a cavallo della, tra la prima e la seconda decada del mese di settembre. Ecco, vedete come penetra appunto la circolazione depressionaria ma notate ancora come si isola appunto sull'Europa occidentale ma notate ancora come è molto elevato lo spread e quindi la sua posizione ancora è tutta da definire. Tuttavia andiamo incontro ad una fase piuttosto movimentata nel cuore dell'Europa e anche sulle nostre regioni dove torneranno a più riprese e piogge e temporali unitamente dunque a questa contenuta diminuzione delle temperature soprattutto sui versanti tirrenici del nord Italia, un po' meno quelle regioni meridionali che invece saranno più interessate da eventi da sud e ancora dunque temperature bene al di sopra delle medie tipiche del periodo. Circolazione che possiamo dire c'è una modifica in vista dunque per l'Europa, una modifica che porterà queste anomalie delle altezze del geopotenziale nella prima settimana del mese di settembre e sull'Europa e notate come i massimi del geopotenziale, queste altezze del geopotenziale si collocheranno a ridosso della Gran Bretagna e l'altra grossomodo tra il Baltico e sulla Scandinavia, mentre le anomalie del geopotenziale tenderanno ad affacciarsi sulla Francia, sulla Spagna e una ripresa di un promontorio anticiclonico invece sull'Europa meridionale e soprattutto su quella sudorientale che andrà ad abbracciare in particolare regioni meridionali. Si tratta dunque di una modifica a questo impianto circolatorio che porterà ancora nella seconda settimana del mese di settembre, diciamo tra il 9 e il 16 di settembre, questo tipo di impianto di anomalie con le anomalie positive che andranno ad interessare l'Atlantico settentrionale e ancora una volta il nord Europa, mentre quelle negative l'Europa occidentale e dunque anche parte della nostra penisola segno di una instabilità che potrebbe ancora farsi largo anche fino a metà mese, grossomodo. Queste appunto sono delle anomalie che lasciano intendere che ci possa essere questo proseguimento almeno fino a metà mese di queste altezze geopotenziali inferiori alla media tipica del periodo. Quindi un prolungamento di questa dinamicità. Ecco queste sono appunto le precipitazioni che abbiamo simulate, vengono simulate dal modello tra il 2 e il 9 settembre e poi anche successivamente, la settimana successiva, notate come l'Europa meridionale ma anche quella centro-occidentale si è interessato da una piovosità sopra le medie tipiche del periodo. Questo ovviamente non vuol dire che pioverà sempre di continuo ma ci sarà occasione per delle precipitazioni che ovviamente dato l'energia che ha in servo il bacino midterraneo ma anche il vapore che contiene queste masse d'aria, i fenomeni potrebbero essere anche intensi a carattere locale. Dunque poi vedremo effettivamente con le previsioni deterministiche come i modelli andranno a vedere, a simulare questa interessante situazione durante la seconda decada del mese di settembre, una situazione appunto votata ad un'accesa dinamicità. C'è un cambio pattern, possiamo dire così, anche se è tutto da vedere se questo è un cambio pattern definitivo o soltanto una parentesi, ma c'è un cambio di circolazione dovuto ad una rimodulazione delle onde planetarie che generano una nuova riposizione dei centri motori del tempo. Quindi la bassa pressione che dominava la Gran Bretagna per buona parte dell'estate si mette in moto verso l'Europa centro-occidentale e dunque questo è il cambiamento. Ma questo si tratta anche di un treno d'onda che viene dal Pacifico, si muove verso il settore atlantico generando questo cambiamento. Ovviamente questo cambiamento c'è dietro un pattern a scala più larga dovuto a delle forzanti che si muovono su tempi piuttosto lunghi quali quelli della Madden Junior Oscillation e del Lenzo. Quindi ci sono delle forzanti a bassa frequenza ma anche con la Madden Junior Oscillation che operano in sinergia per smuovere questo pattern che ha caratterizzato buona parte dell'estate, in particolare la seconda parte e in special modo il mese di agosto. Il mese di agosto è stato molto caldo e solo nell'ultima parte spezzato dall'incursione di correnti più instabili. Dunque questo pattern è una forzatura a bassa frequenza dovuta allo stato del Lenzo ma anche una forzatura dovuta al movimento della Madden Junior Oscillation che si muove con i suoi centri convettivi che erano centrati sull'oceano indiano verso il Pacifico e poi piano piano verso il settore atlantico come tendenza. Questo non farebbe altro che incentivare a metterne slancio alla corrente a getto che prende possiamo dire una tendenza ad una maggiore propensione a favorire degli scambi di calore lungo i meridiani. Per il momento ci fermiamo qui, grazie e buona continuazione di sera.